Resterà in carcere l'operaio 49enne che lo scorso lunedì aveva aggredito la moglie accoltellandola nella loro abitazione nel centro di Bibbiena. Il giudice Fabio Lombardo ha infatti convalidato l'arresto per tentato omicidio e disposto la custodia cautelare. La difesa aveva invece chiesto una misura alternativa. Restano ancora tutte da chiarire le motivazioni del folle gesto. L'uomo di fronte al GIPA si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo i carabinieri di Bibbiena il 49enne avrebbe inseguito e ferito la moglie con una lama da 7 centimetri colpendola più volte al collo e al petto nell'arco di un'ora. Una violenta aggressione al culmine di una lite che si sarebbe consumata in più stanze della casa. Lo stesso 49enne aveva poi chiamato un vicino per chiedere aiuto nei soccorsi. Sullo sfondo del drammatico episodio ci sarebbe in base a quanto ricostruito dai carabinieri problemi legati alla droga. La moglie, una 41enne, è ancora ricoverata all'ospedale fiorentino di Careggi ma ormai fuori pericolo di vita.